Avevamo promesso di riportare la legalità negli impianti sportivi comunali e lo stiamo facendo. Questa mattina, all'alba, con un'operazione coordinata con la polizia locale, i nostri uffici hanno sgomberato e ripreso il centro sportivo comunale in via degli Olimpionici 71, più noto con il nome commerciale Orange Football Club. Così l'assessore allo sport di Roma Capitale, Alessandro Norato. Si tratta di uno degli impianti con la più alta morosità nei confronti di Roma Capitale, ha spiegato parliamo di un mutuo di 5,4 milioni di euro mai pagato e rimasto a carico dei cittadini romani. Il Comune, in quanto garante della fideiussione con l'Istituto del Credito Sportivo, è stato pignorato e costretto a pagare di tasca propria oltre 4 milioni di euro. Oggi abbiamo posto fine a questa situazione inaccettabile. La congestione era decaduta già nel 2013, ma nessuna amministrazione prima era intervenuta, ha concluso Norato.